Ah ah! Niente volo questa volta! Cosa? Perché non dovremmo volare? Pensateci! Il Principe Zuko e la Nazione del Fuoco riescono sempre a trovarci. Questo perché individuano Appa che è facilmente visibile. Cosa? Appa non è affatto facilmente visibile! È un beloso mostro gigante con una freccia sulla testa. È difficile non notarlo. So che è solo geloso perché lui non ha una freccia. Lo so che voi vorreste volare, ma il mio istinto mi dice che dovremmo andare a piedi. Chi ti ha nominato, capo? Non sono il capo, sono il più grande! Sei il più grande, eh? Però ancora non hai la barba. Sono il più grande e sono un guerriero, quindi facciamo come dico io. Se qualcuno deve essere il capo, questo è Hank. Voglio dire, lui è l'avatar. Stai scherzando, è solo un ragazzino sciocco. È vero! Perché voi ragazzi pensate sempre a chi fa il capo? Non saresti così prepotente se avessi già baciato una ragazza? Io l'ho baciata una ragazza, è solo che tu non la conosci. Chi? La nostra nonnina? Io conosco la nonna. No, non è la nonna. Senti, il mio istinto mi dice che abbiamo più possibilità di passare inosservati se andiamo a piedi. Fidatevi del capo. D'accordo, proveremo a fare a modo tuo, ossaggio capo. Chissà, potrebbe essere divertente. Camminare fa schifo. Come fa la gente a spostarsi senza un bisonte volante? Non saprei, Hank. Perché non lo chiedi all'istinto di Sokka? Sembra che lui sappia tutto. Ah, molto divertente. Sono stanco di portare questo zaino. Sai a chi dovresti chiedere di portarlo per un po'? All'istinto di Sokka? È un'idea fantastica. Ehi, istinto di Sokka, ti dispiacebbe? Va bene, va bene, ho capito. Ragazzi, anch'io sono stanco. Ma l'importante è che siamo assicuro dalla nazione del fuoco. Scappiamo! Non c'è più ad uscita. Sokka, vai a fuoco! Se ci lasciate passare, vi prometto che non vi faremo del male. Cosa stai facendo? Sto pleffando. Prometti che non ci farete del male. Bel lavoro, Sokka. Ma come hai fatto? Istinto. Guardate! Vi sconfiggeremo! Sono sugli alberi! Oh! Ehi, era mio! Sì, più rapido. La prossima volta. Sì, più rapido. Ciao Ciao Hai appena eliminato un intero esercito tutto da solo Un esercito? Erano a malapena una ventina di uomini Io mi chiamo Jet e questi sono i miei combattenti Ghigno, Lancio Lungo, Fiuta Api, Il Duca e Fifone Fifone, che nome buffo hai Pensi che il mio nome sia buffo? È divertente